Allora questa sarebbe Uva Fragola, vero? Avvicinati, cammina. Uva Fragola di Nicola Bolzelli, è una cavallina di 6 anni che non ha fatto ancora molte cose, ancora un po' inesperta, però è una cavallina molto generosa. Protocollo? Sì, è già scritta a protocollo, anche se l'anno scorso non ha fatto nessun appuntamento, mi aveva fatto fare una corsa a Monteroni e basta. E quest'anno guardiamo di fargli fare tutto quello, tutto l'iter, tutto l'iter che ne conservi per arrivare a fargli vedere la piazza, che sarebbe quello che vuole il proprietario, l'ambizione di Nicola, in quanto lei è figlia di Inventano e un'altra, che insomma poi gli appassionati della provincia dovrebbero conoscere. Allora, fai due passi più alla luce, vai. Oh, se il sole si vede meglio, così. Bellino giusto? Bellino, sì. Bene, uva Fragola, ok.